Grande cordoglio a Galliate per la tragica scomparsa di Emilio e Cecilia Gambaro, i due anziani, rispettivamente di 87 e 83 anni, deceduti nell'incidente verificatosi nella notte di Capodanno. L'auto sulla quale viaggiavano, una Opel Corsa, è infatti stata ritrovata dai vigili del fuoco, intervenuti con squadre fluviali, sommozzatori e unità di comando Abbonati a soli 9,90 euro all'anno Gioielleria Rossi, il nuovo negozio in via Briona a Domodossola